Ad oggi devo dire che i casi di malati ricoverati negli ospedali sia nei reparti Covid medici sia nei reparti Covid intensivisti, quindi di animazione, sono in calo, sono ridotti e ci auguriamo che continuando la vaccinazione a sprombattuto, seppur sappiamo che purtroppo una criticità è la mancanza dei vaccini e possa contribuire appunto a ridurre progressivamente la diffusione di questo virus sempre insieme al buon senso delle persone. Così si esprimeva tre giorni fa il primario di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo, Danilo Tacconi, in merito all'impennata di casi della variante Delta anche nel nostro territorio. Impensabile che la diffusione del virus si fermi, questa variante diventerà prevalente, purtroppo sembra conclamato il fatto che il vaccino, soprattutto se si è effettuata un'unica dose, non protegge da questa variante. Al 16 luglio, dati ASL, hanno ricevuto una prima dose 185.000 aretini, 100.000 coloro che hanno effettuato anche la seconda. In realtà nel Regno Unito le persone che hanno fatto solo una dose di vaccino in alcuni casi sono stati ricoverati, quindi direi che l'ottimo è fare la doppia dose di vaccino o completare il ciclo vaccinale. Questo non ci sono dubbi perché protegge per la malattia conclamata e per le complicanze in più dell'80% dei casi. A seconda dei tipi di vaccini, ovviamente quelli a mRNA la protezione è maggiore, per quelli a vettore virale un pochino minore. Però comunque sia, diciamo, l'obiettivo è quello di fare vaccinazione doppia e di mantenere comunque negli ambiti in cui noi possiamo, abbiamo una riduzione delle distanze, una promiscuità tra persone che non conosciamo, mantenere sempre i dispositivi di protezione e l'igiene delle mani. Facciamo i conti con la mancanza di dosi ancora una volta, anche per i soggetti fragili. Ci sono infatti casi di prenotazione che ancora attendono l'appuntamento proprio per mancanza di dosi. Le previsioni rispetto alle vaccinazioni è che anche il generale Figliolo affermava che comunque entro settembre il 70% della popolazione avrebbe, 70-75% avrebbe ricevuto almeno una dose di vaccino. È ovvio pensare che una dose di vaccino può non essere protettiva perché comunque abbiamo le varianti che provocano questo tipo di problema e noi gli obiettivi dobbiamo, se possibile, cambiarli. Quindi intensificare sicuramente la campagna di vaccinazione e renderla, diciamo, a modi Formula 1. No, però ripeto, se i vaccini non arrivano questa è una criticità che non dipende da noi.